wewe ragazzi e bentornati oggi proveremo ad affrontare evacua rifugio stando a fk allora eccoci qua missione evacua rifugio al 140 difficoltà 4 giocatori la proverò ad affrontare in solo purtroppo raga la prima ondata questa non si può fare in nessun modo bisognerà uccidere 20 nemici e se volete un consiglio appunto per evacua rifugio sappiate che anche se l'affrontate con un team di 4 persone se siete magari 4 amici mettetevi sempre d'accordo e fate lanciare in missione solamente uno di voi così al posto che effettuare 120 kill con zombie al 163 ne dovrete uccidere solamente 30 che poi con i piccoletti basta un colpo di deatomizzatore già ne fate fuori una decina insomma avete capito bene allora evacua rifugio è una missione particolare perché il rifugio è davvero grosso rispetto al pallone di recuperare i dati quindi molte volte ce lo fanno spawnare in una zona non molto confortevole da poter difendere però dopo questo video vedrete quanto è facile poter affrontare anche evacua rifugio a FK allora cominciamo subito col coprire il rifugio questa è una tempesta di tipo natura come vedete ci sono zombie solo elementali solo di tipo natura quindi andremo a costruire assolutamente col mattone perché sappiamo che il metallo è molto debole contro gli zombie di natura quindi procediamo con uno strato di muri di mattoni copriamo questo buco perché non vogliamo che gli zombie ci cadano dentro e quindi respawnino nuovi zombie e quindi sotto i muri andiamo a posizionare i pavimenti di ferro utilizzo il ferro per non cercare di sprecare solo il mattone perché in evacua rifugio dovremo sprecare molti più materiali rispetto a recuperare i dati sia per la dimensione del rifugio sia per magari i vari buchi che vanno coperti sia perché comunque la missione può presentare delle variazioni quindi vi toccherà agire di conseguenza ovviamente raga potenziamo il primo strato di muri e i pavimenti il resto potrete pure non potenziarlo poi il secondo strato del rifugio che ovviamente raga non ci attaccheranno mai quindi andiamo col legno ma possiamo pure decidere di non potenziarlo in questo video io potenzioro tutto giusto per l'aspetto estetico poi ci metto sopra la base che comunque essendo che il rifugio è grosso cerchiamo di sfruttare anche il riciclo ci mettiamo sopra la base cerchiamo di potenziare tutto il prima possibile così appena andremo a mettere la base inizierà subito a riciclare i materiali ora andiamo a mettere le scale di legno sul secondo piano in modo che funzioni non un po' con gli sbalzatori da terra allora molte volte non vi fanno costruire il pavimento quindi vi consiglio di utilizzare semplicemente gli sbalzatori da muro quindi non andremo a fare lo strato di scale cercheremo di sprecare meno materiali possibili cercando di risparmiare il più possibile perché già comunque evacua il rifugio è molto dispendiosa per quanto riguarda i materiali e anche le trappole cioè anche rispetto alla jail build su recupera i dati o semplicemente la stall build dove andiamo a utilizzare i quattro sbalzatori qua ce ne serviranno dodici quindi sono quattro recupera i dati solo per una missione se invece ai recupera i dati andassimo a affrontare la jail build a quel punto utilizziamo magari due luci a muro però utilizziamo tante tante strutture però il consumo di trappole per evacua il rifugio è leggermente superiore in questo caso andrò a utilizzare solamente gli sbalzatori da terra potete utilizzare anche quelli da muro è totalmente indifferente io ho utilizzato quelli con doppia velocità di ricarica e il resto full impatto tranne l'ultima perk di durevolezza ho sprecato un po' più di materiali del previsto per coprire quel buco dove c'era la casa e addirittura l'ho maxato con metallo 3 per non rischiare comunque nella parte superiore ci vado a mettere esclusivamente la base non andrò a utilizzare trappole antiaeree tanto non nasceranno streghe o lancialtroni se non andiamo a uccidere i primi zombie quindi importantissimo quindi anche qui risparmiamo trappole potenzio tutto comunque per il riciclo e ora semplicemente aspettiamo 4 minuti che parta la difesa allora la difesa sta per partire mi faccio un po' di protezione non è essenziale raga ma me la faccio giusto per gli occhi belli e vediamo un po' come va allora gli zombie arrivano tutti da due punti diversi già che ci sono comunque maxo questo legno così mi ripiglio indietro i materiali da riciclo sempre vi consiglio assolutamente il riciclo su eva col rifugio raga anche perché guardate che struttura teniamo d'occhio gli zombie vediamo un attimo come va beh che dire il congelamento funziona gli sbalzatori funzionano le scale messe così funzionano non vedo perché dovremmo fallirla il sistema funziona magari mi faccio le finestre qui così tengo d'occhio tutto il rifugio tengo d'occhio i muri dall'interno senza dovermi sbattere a scendere controllare da sotto che poi faccio un casino per tornare sopra e utilizzo la volontà del guardiano si bugga utilizzo l'attacco e chilo di zombie no faccio le finestre qua sopra e controllo da sopra chi se ne frega allora che build ho utilizzato per questa missione ovviamente re dei ghiacci come primario con il vantaggio squadra del riciclo vi ricordo che comunque non andiamo a uccidere zombie con le trappole quindi non ci servono le trappole super caricate il riciclo essendo che comunque il rifugio è bello grosso beh raga è molto più utile che recupera i dati quindi poi andiamo a mettere modulazione di potenza le salute si rigenerano automaticamente mega base assolutamente così andiamo a prendere un raggio molto più ampio per il rifugio che è abbastanza grosso superbe architetture quindi aumento la salute degli edifici ovviamente potete utilizzare lui anche come primario eh raga trappole robuste vado a incrementare la durevolezza delle mie trappole in più anche le mie squadre superstiti mi incrementano la durevolezza delle trappole i miei sbalzatori da terra in questo caso in questa missione hanno 60 utilizzi e vi dico che comunque sono restato al 131 non ho inserito tutti i superstiti che mi vanno a incrementare la durevolezza in quanto comunque sono solamente 6 minuti di difesa e poi tutto antibomba ma questa è una variabile scegliete voi cosa mettervi potete mettere anche la perk che vi restituisce la salute se state sopra il raggio della base e ripeto perché ovviamente il rifugio è molto molto grosso standardo e campo lento semplicemente in caso comunque di una situazione critica sia lo standardo che il campo lento sono molto utili la cura di adrenalina in questo caso non ci serve assolutamente anche perché mettete lo standardo sopra il rifugio e ogni volta ci rinascerete vicino così potrete sfruttare anche questo piccolo particolare per andare in giro a farmare nella mappa e poi uccidervi per rinascere subito vicino al rifugio comunque raga fatemi sapere qua sotto nei commenti quale altra missione vi interessa portata così in questo periodo vorrei portarvi tante missioni farvi vedere comunque come le affronto cercare di trovare nuovi modi per affrontarle anche perché con la season 12 che arriva potrebbero cambiare molte cose fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo video se vi è tornato utile oppure no utilizzerete questa tecnica? beh che dire quando non ci sono compagni è sicuramente un modo eccezionale per affrontarla se vi state preoccupando per le ricompense del combattimento vi basterà effettuare il combattimento all'inizio ovviamente quello all'inizio non possiamo schipparlo ma meglio così così facciamo quel combattimento che appunto ci farà prendere la nostra ricompensa in più magari gli zombie che ci pushano ogni tanto in più gli accampamenti in giro in più noi costruiamo utilizziamo trappole insomma la ricompensa non dovrebbe saltare io vi ringrazio di essere arrivati fino a qui a guardare il video vi ricordo solo di lasciare un bel like noi ci vediamo la prossima bella bella iscriviti al canale 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 iscriviti al canale